Il colpo al Bancomat finisce con la fuga dei banditi, un inseguimento con speronamento e due carabinieri feriti, oltre a un lauto bottino oltre 50.000 euro. Il tutto è avvenuto ai danni della filiale di Ubi Banca di via Achille Grandi in zona baraccola ad Ancona. Poco prima delle 4 della scorsa notte un fragore enorme sentito da mezzo quartiere. Lo sportello interno della banca è stato fatto saltare con una carica esplosiva di acetilene. Ingenti danni anche la struttura. È scattato l'allarme ai carabinieri da parte di residenti e gestori di limitrofe e attività commerciali. Una gazzella dei militari del Norma ha intercettato lungo la statale un Alfa Romeo Giulietta Bianca che procedeva in maniera sospetta. Dentro c'erano due banditi. È così iniziato l'inseguimento e con essi i tentativi di speronamento dell'auto dei militari. Per due volte i ladri, simulando di fermarsi, hanno ingranato la ritromarcia e tamponato l'autovettura di servizio nella parte anteriore. Nei pressi di Candia, all'altezza del centro sportivo Conner Wellness, hanno abbandonato l'auto, risultata poi rubata, nei campi. I due componenti della banda sono fuggiti, mentre due militari coinvolti nell'incidente stradale sono finiti al pronto soccorso di Torrette. Uno è stato dimesso con sette giorni di prognosi, l'altro con dieci giorni. Ad agire sarebbero state almeno sei persone divise in tre auto.